e salve simmers io sono marichelle e bentornati nel let's play the sims 4 ragazzi questa è una puntata di transizione perché tra poco come saprete andremo con la nostra famiglia tropical proprio come avevo sperato perché io li ho creati apposta sull'isola di sulani e devo dire che ho letto tante news di cui nel frattempo in questa puntata parleremo che mi sono piaciute tantissimo a partire dalle sirene come vi ho fatto ben capire dai miei post sia su instagram sia nella community infatti ho aspettato un po' adesso a fare questa puntata perché volevo che fosse una puntata proprio di transizione una puntata di mezzo perché mancano pochi giorni mancano pochi giorni per il nuovo pack e quindi questa puntata sarà abbastanza tranquilla nel senso che faremo delle cose vi spiegherò anche alcune cose che riguardano i nostri sim perché ci sono dei lati del loro carattere che dobbiamo approfondire però al tempo stesso parleremo anche un pochettino del pack senza troppi spoiler però e perché ci sono delle cose molto molto interessanti io ero partita con loro con delle idee perché nell'attesa del nuovo pack riguardante l'isola diciamo avevo delle idee delle idee che però avendo delle info su island living diciamo sono leggermente leggermente cambiate ma pian pianino capirete tutto e ragazzi ci divertiremo tantissimo intanto siamo qui con nancy che come vedete si sta rilassando e facendo yoga si sta allenando non è ancora molto brava e lei sarà un personaggio ragazzi fondamentale nella nostra storia sarà veramente fondamentale perché per lei avevo dei progetti abbastanza oscuri nonostante lei ami il sole ami la luce per lei avevo pensato qualcosa di inerente ai vampiri e ve l'avevo accennato ovviamente non subito ma l'avevo pensato forse però ragazzi non ne avremo bisogno ma perché nancy è attratta dai vampiri è attratta da loro non tanto per i loro poteri o meglio anche ma è più attratta dal loro lato oscuro perché come avrete capito bene lei è una tipa veramente molto molto particolare e diciamo non super positiva come persona nel senso non sappiamo quanto è buona e quanto no sappiamo che adora lavorare adora i soldini e questa non è una cosa poi tanto strana però è davvero una buona sim è davvero una buona persona questo non lo sappiamo diciamo che mark mark che nel frattempo come vedete è a lavoro si fida di lei ma fa veramente bene a fidarsi ha già visto qualche lato di lei un po me ne freghista assolutamente niente di terribile semplicemente lei ha lasciato qualche piatto in giro lasciato un po di sporco assolutamente niente di così terribile ma è tutto qui oppure il fatto che lei sia una persona un po me ne freghista è indice di qualcosa di più per adesso noi non lo sappiamo meglio io lo so ma pian piano scoprirete delle cose molto molto interessanti su Nancy ah vi informo che Billy Bud sta benissimo eccolo qua il nostro Billy Bud non possiamo assolutamente dimenticarci di lui che verrà con noi su Sulani sei contento Billy Bud è contento oh ed è tornato il nostro mark eccolo qua molto teso dal lavoro voi sapete che lui è uno pigro anche se molto ordinato ma è una persona veramente molto buona e l'unica cosa come vi dicevo come vi ho sempre detto che ha in comune con Nancy è il fatto che ama il mare guardate come si rilassa appena si mette qui cioè lui adora la sua piscinetta minuscola la adora ma tra un po avrà un mare a disposizione e anche su di lui ragazzi ho delle cose da dire dovete sapere che lui nonostante non sia assolutamente interessato alla sua amica magari mandiamola qua così chiacchierano nonostante non sia interessato ha bisogno però di relazioni romantiche per questo motivo ha chiesto a Nancy di presentargli qualche amica e lei lo ha fatto e infatti domani organizzeremo una festicciola cioè domani il giorno sim una festicciola con le amiche di Nancy intanto io ho creato già diciamo un gruppo un club con lui appunto per radunare un po le sue amiche guardate qua c'è Miko, Supria, Darling insomma tre ragazze molto simpatiche che lui ha già diciamo si è già presentato è già un po conosciuto e diciamo che fa un po il provolone un po con tutte e io direi di approfittare di questa puntata per fare una piccola festicciola all'insegna vedete c'è del caldo perché comunque è estate approfittiamo di questa calura estiva per fare qualcosa di fresco quindi direi di aspettare il giorno dopo ma andiamoli a dormire comunque sono stanchi lei ha lavorato tutto il giorno per una volta non ha lasciato sporchi in giro anche perché non ha mangiato praticamente ma devo dire che mentre ci giocavo da sola ha fatto danni lei eh vi devo dire che ha fatto danni lasciava tutto sporco però lui ormai ha detto vabbè è fatta così ci penso io anche se sono una persona un po pigra anche se anche lui comunque ha un lavoro quindi avrebbe bisogno di aiuto come sapete però lui pensa se alla fin fine eh il lato brutto della mia amica è solo questo tutto sommato lo posso tollerare ma è veramente solo questo il lato brutto suo ma ragazzi ma intanto come vedete sono abbastanza amici molto amici quindi si vogliono bene o almeno così crede lui o almeno così crede lui eccoci qua sono le 7 di mattina è una giornata rovente ma è il momento di organizzare una piccola festicciola perché come vi dicevo lui ha già conosciuto l'amica di lei però diciamo lei vuole approfittarne per fargliele conoscere meglio tramite una festicciola in casa e quindi organizziamola bene bene allora intanto ovviamente si sveglia lui e butta il cibo avariato ovviamente come al solito fa tutto lui lei continua a dormire beatamente lui ha un po' disagio giustamente pensa vabbè come al solito faccio tutto io però alla fin fine Nancy è tanto gentile che mi presenta le sue amiche eh sì ragazzi è tanto gentile ragazzi pensateci bene a queste frasi perché poi e ve le ricorderete e magari potremmo servire a cucinare delle cose da servire per il nostro rinfresco facciamo un piccolo rinfresco in casa uh torta invernale patatine con salsa allora patatine con salsa assolutamente sì formato festa e poi metteremo appunto tutto un po' qua fuori mettiamo magari due sedie qua un tavolino qualcosa di semplice arrediamo un pochino lui è già ispirato si sta già vedete risollevando con l'umore perché pensa a questa festicciola che hanno organizzato quindi è felice lei si è svegliata e ha fame ovviamente non si degna di aiutarlo potrebbe cucinare qualcosa anche lei ma non lo farà e quindi semplicemente fa un pasto veloce con dei cereali lei è molto tranquilla tra l'altro vedo che vuole ricevere una promozione ovviamente e se ne frega veramente altamente ma lei se ne frega di tutto cioè a parte il fatto che sta presentando le sue amiche a lui per il resto lei è veramente una gran menefreghista ma lui è tranquillo le vuole bene adesso chiacchierano un po' direi approfittiamone per farli chiacchierare un pochino visto che è prima mattina spettegola guarda lui com'è contento mangia qualcosa con lei questo poi lo metteremo fuori e lui la guarda ammirato e le parla della festa di oggi e lei ci divertiremo veramente tantissimo quindi cosa potremmo mettere all'esterno? qualcosa di simpatico ragazzi il canestro potremmo metterlo lo stavo pensando non l'ho mai messo ma in effetti è bellissimo giocare a canestro eh sì e magari anche non ci sta vero no? potremmo approfittarne anche per mettere qualcosa di feste di lusso tipo questo ma giusto per metterci sopra i manicaretti del nostro Mark facciamo cucinare tutto a lui non compriamo niente oppure se qualcosina sì magari mettiamolo qua vediamo un po' un altro colore più allegro tipo un bel rosso che bello magari questo potrebbe essere cioè non vorrei che fosse troppo di lusso ecco così ci piace ci piace una cosa molto semplice e che bello siamo pronti primo manicaretto che mettiamo qua è ovviamente questo poi magari qualcuno lo aggiungiamo allora servi cibo e tempura di verdure lo mettiamo lo mettiamo appunto così senza doverlo cucinare lo facciamo apparire e anche un altro servi cibo pollo arrosto sì dai per i carnivori ci può stare bene e poi servi brunch ecco qua magari facciamo delle frittelle frittelle e intanto lei organizza la festa facciamo una festicciola in casa molto tranquilla mentre lui cucina magari invitiamo loro tre ah c'è anche i zoom non so se questa sia un vampiro però visto che ci siamo possiamo approfittarne forse no non è un vampiro ci assomiglia un po' però intratteritore niente mixologo dai uno sì fondatore di catering no perché abbiamo il nostro mark e la nostra residenza va benissimo facciamo una cosa molto molto semplice guardate lui che felice felicissimo fulgore e fascino nessuna festa è completa senza un po' di lusso lui è felice di quel del lusso guardate lei che bella ragazzi a me non dispiacciono i vestiti che abbiamo scelto devo dirvi la verità tutto sommato non sono male ma appena uscirà l'espansione ci saranno ragazzi dei capelli nuovi bellissimi dei vestiti bellissimi quindi insomma uuuu aaa su di lei vi devo vi devo parlare ragazzi eccola qua darling lei l'aspettavo particolarmente perché mentre giocavo da sola a lei ho fatto conoscere bene guardate si sta si sta auto incoraggiando e c'è un motivo come vedete lei è la meno femminile perché ora vi faccio vedere le altre le altre ragazze le altre ragazze sono tutte più o meno abbastanza carine vediamo dove se sono arrivate si eccole qua guardatele qui che belle diciamo che lui è rimasto abbastanza ammaliato da Mico Mico a me piace tantissimo come si mina preimpostata del gioco guardate che carina che è è stupenda secondo me e poi trova molto carina anche i zoom mentre non trova per nulla carina questa ragazza qui Darling come vedete lei è un po' maschiaccio è una tipa un po' particolare con un carattere particolare e come vedete è un po' giù è un po' giù perché la volta in cui li ho fatti incontrare diciamo lei si è un po' infatuata del nostro Mark 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 l'ha trovata comunque molto simpatica infatti ci ha fatto amicizia però lui ha mostrato molto più interesse per Mico e Mico invece se ne frega altamente del nostro Mark infatti ha fatto decisamente meno amicizia lei lei invece si è presa subito lei si è subito cotta potremmo dire così e ne approfitta per parlargli per approcciarsi in tutti i modi ma è molto maschiaccio e quindi non fa molta presa intanto ringraziamo per la presenza bevi bevi venite tutti forza e magari giochiamo un po' qua direi che non è male la cosa magari potremmo grigliare anche qualcosina la poverina però è triste quindi la nostra Nancy la nostra Nancy se ne accorta quindi facciamo gruppo azioni aggiunge al gruppo se ne accorta la porta fuori e la vuole un po' incoraggiare diciamo le dice vieni con me vieni con me cara darling vieni vieni ed eccola qui si è anche cambiata questo è il vestito migliore che ha fate voi e insomma la vuole un po' ringraziare ringrazia per la presenza e soprattutto la vuole rallegrare le dice cosa succede ti vedo un po' giù no no figurati niente lei ovviamente non vuole dire la verità ma Nancy è molto furba e ovviamente ha già capito tutto e quindi insomma sta cercando di rallegrarla di parlarle lei un pochettino si sfoga anche se come come vi ho detto non dice tutto non dice tutta la verità e lei però la incoraggia dice dai ti vedo un po' giù forse sei interessata a Mark le chiede forse sei interessata a Mark eh ma lo trovo abbastanza simpatico dice lei ok e intanto chiacchierano lei pian piano si sfoga sempre di più e insomma però Nancy è molto diciamo molto rassicurante come amica guardatela guardatela com'è dolce vero intanto Mark che è molto molto gnorri devo assomiglia tantissimo a Nancy questa uh scusate per un attimo ho detto è Nancy 2 eh sfida sfida la gara di canestri e direi che sfida magari Nico e anche Izumi ed esclude Darling perché comunque lui vorrebbe fare bella impressione con Izumi in particolare devo dire che lui sta puzzando abbastanza mi fa ridere che parte subito col fare brutta impressione perché si è accorto di puzzare e penso no che figuraccia che figuraccia intanto lei da lontano vede che lui comunque non l'ha invitata però vabbè si sta rallegrando con Nancy quindi comunque sta lo stesso meglio e intanto Nancy dice vai vai dai forza prova a creare il canestro anche tu no poverina intanto qui come se la stanno cavando vediamo vediamo a chi tocca a lui vai fai almeno bella figura forza forza si dai hai fatto bella figura bravo chissà se lei ti ha notato ma non sembra la nostra amico non lo nota neanche di striscio non ce la fa più dice devo assolutamente farmi una doccia al volo perché qui sto facendo delle figuracce assurde con Mico che in effetti è molto carina billy pad guardate habitat pulito puliamo l'habitat giochiamo insieme parliamo chiedi dei roditori ok lui è qua è la sua occasione no Mico è andata via ragazzi no eccola qua eccola qua forza è la tua occasione parla di cucina parla di quello che sai meglio discussi dei pasti gourmet e così gli può chiedere se gli sta piacendo tutto intanto lei è qua che balla e ascolta però è molto timida ragazzi è molto timida anche se è riuscita a fare una discreta amicizia con lui ma è veramente timida però lui niente l'approccio lo tenta con lei lei si avvicina lei si avvicina tenta di intrufolarsi nella discussione brava molto furba e lui ovviamente è molto educato parla anche con lei che comunque la considera un'amica oh lei sta pulendo invece l'abita di billy bud ragazzi povero billy bud che poi tra l'altro se dovesse morderla non so se lo sapete con l'abita sporco lei si prenderebbe delle malattie terribili una malattia terribile che può portare anche alla morte oh chissà che no non posso dirlo non posso dirlo stavo per dire una cosa ma vi avrei fatto spoiler lasciamo stare riguarda billy bud potrebbe avere un ruolo ragazzi anche billy bud anche se sembra incredibile lei deve andare al bagno brava dai attenzione a billy bud e intanto lui ragazzi è flertante però non sta calcolando lei guardate e invece Mico ascolta tranquillamente direi di fare una foto come vedete ho fatto anche il gruppo proprio perché ci siano tutti e direi approfittare per fare un po' il romanticone chiediamole se è single nel frattempo magari non è single sei single? si è single e allora lui dice mi devo buttare lui ragazzi è un gran romanticone posa sexy pone una domanda spinta lui diciamo che è anche un po' provolone tra l'altro è arrivata anche un'altra amica della nostra Nancy che è qua fuori e fa parte del gruppo che prima però non è potuta venire alla festa ed è lei Supria non riuscivo a dire il nome Supria è molto carina ma per il nostro diciamo Mark è un po' troppo palestrata per i suoi gusti anche se io la trovo veramente molto molto carina e va molto d'accordo con Nancy anche lei guardate lei mostra le sue doti di ballerina e forse sta iniziando a interessarsi molto interessante come cosa insegna a ballare lui può insegnarle a ballare direi approfittane visto che evidentemente lui si sente un grande ballerino ma non lo è in realtà però potrebbe approfittarne davvero sei un grande ballerino ah sì ho delle doti nascoste come no in realtà non ha mai ballato in vita sua però dai consigli sulle relazioni guardate lui come si fa vedere flirta e lei si sta iniziando a interessare devo dire e direi di scambiare i numeri di telefono lui si è spinto molto in là scambia i numeri di telefono e lei in effetti ha fatto una faccina abbastanza interessata secondo voi ragazzi ve la butto lì vedremo vediamo chi è arrivato a questo punto del video perché stiamo per chiudere vi butto lì una domanda se siete arrivati a questo punto del video ditemi se secondo voi tra di loro c'è una sirena una futura sirena vi lascio lì la domanda rispondete se siete arrivati a questo punto del video mettete anzi l'hashtag sirena hashtag sirena sirena e magari il nome e vi ricordo i nomi sono mico darling qui abbiamo anche sì non so scriverlo però su pria non ve l'ho fatta vedere molto ma non importa e poi perché no abbiamo anche nancy perché no perfetto chissà ma di loro ci sarà una sirena e lui non lo sa tutto può essere loro sanno loro sanno solo che quando si trasferiranno sull'isola di Sulani potranno prendere tanto sole tanto mare lei intanto si fa vedere bravissima e insomma si divertiranno tantissimo e hanno sentito delle leggende riguardanti le sirene però ovviamente non ci credono perché sono leggende ragazzi io direi di chiudere così la puntata ho fatto una puntata veramente molto tranquilla perché ho tante idee per il dopo nella prossima puntata li vedremo direttamente a Sulani cioè faremo un trasferimento siete pronti? ragazzi vi saluto per questa puntata vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima al mare ciao ciao